Il Consiglio Comunale di Imperia tornerà a riunirsi domani dalle 17. All'ordine del giorno, fra le altre cose, la cessione delle quote dell'autostrada dei Fiori e la revoca degli atti approvati in precedenza dallo stesso Consiglio per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Il sindaco Claudio Scaiola ha infatti cambiato nettamente il disegno politico che era stato formulato nel corso della precedente amministrazione e che prevedeva un affidamento in ausa a una società pubblica, proponendo una gara di appalto aperta ai privati. Il periodo transitorio è supportato da una proroga già firmata da Scaiola che ha affidato il servizio alla Tecno Service fino alla fine del settembre 2019, prevedendo però anche l'avvio della raccolta porta a porta dal prossimo gennaio. In discussione anche alcune mozioni avanzate da consiglieri di maggioranza e opposizione, fra cui l'adesione al progetto per eliminazione della plastica monouso, l'impegno dell'amministrazione a contrastare il decreto 1000 proroghe con cui sono stati tagliati i fondi per la nuova pista ciclabile e ancora l'impegno dell'amministrazione contro il declassamento del reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale di Imperia.